ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo del wifi di casa come migliorare le prestazioni del wifi di casa ci sono tanti accorgimenti che possiamo prendere in quanto l'optimum sarebbe intanto avere un modem router di buona qualità per non dire alta qualità però spesso abbiamo quelli in dotazione degli operatori dei nostri operatori di linea fissa e non li cambiamo perché diventa un po più complicato anche col modem libero poter fare questo tipo di operazione o per anche altri motivi che decidete voi quindi queste regole valgono per tutti sia che siano dei modem router buoni di buon livello e sia che siano di scarso livello sono delle regole fondamentali che vi aiuteranno se seguite sicuramente a migliorare quella che è l'estensione del segnale wifi e anche la funzionalità allora vi ricordo che il wifi di casa ha normalmente o una o due bande ossia la 2,4 gigahertz e la 5 gigahertz la 2,4 gigahertz offre una copertura più più estesa ma meno velocità mentre la 5 gigahertz di norma offre maggiore velocità e meno copertura molti dei modem router wifi inizialmente quando vengono installati hanno già le frequenze unite ossia è lo stesso modem router che gestisce le frequenze quindi in base a quale punto della casa vi trovate vi switcha o sulla 2,4 o 5 gigahertz ovviamente un buon modem router cercherà di tenervi quando il segnale è sufficiente sulla 5 gigahertz che è la più performante nel caso in cui invece voi doveste avere un modem router che non gestisce bene questo tipo di switch quindi tra la 2,4 e la 5 gigahertz allora io vi consiglio di entrare nel menu diretto del vostro modem router seguendo la http quindi il numero che viene fornito nel manuale collegarvi al vostro modem router tramite pc tramite cavo ethernet o anche tramite wifi e separare le frequenze è possibile per penso quasi tutti modem router poter separare le frequenze quindi creare due reti una 2,4 e una 5 gigahertz in modo da poter usufruire come volete voi dell'appunto di una o dell'altra se vi trovate in una zona coperta male dal 5 gigahertz avete qualche impianto o qualche smartphone o qualche smart tv e vi dicendo collegata al vostro modem router ovviamente sceglierete la frequenza 2,4 gigahertz ma andiamo alle regole fondamentali intanto se è possibile è meglio mettere il modem router verso il centro della dell'appartamento quindi della casa metterlo al centro significa poter dar maggior copertura in ogni luogo del vostro appartamento un'altra regola importantissima è quella di metterlo in posizione più alta possibile spesso ho visto e capita spessissimo di vedere modem router messi molto in basso in un angolo infilati chissà dove e non questa non è la posizione migliore per irradiare il segnale deve essere messo in una posizione alta quindi più alta possibile in modo che il segnale riesca a raggiungere meglio tutta almeno per quella che è la capacità nel modo del router diciamo il vostro appartamento nel migliore dei modi nel migliore dei modi un altro discorso importante è quello della frequenza 2,4 gigahertz allora la frequenza 2,4 gigahertz è una frequenza che viene molto disturbata da diversi fattori uno principale è quello del tanti modem router accesi che possono esserci nelle vicinanze che utilizzano la stessa frequenza la 2,4 purtroppo subisce molto le interferenze quindi vi conviene se il vostro modem router ha la possibilità di scansionare le frequenze e molti ce l'hanno quindi tramite il menu del vostro modem router vedere qual è quella frequenza indicata che ha presenza di minor apparecchi lo rileva direttamente il modem router e vi fa vedere quale frequenza è più libera quindi poi potete forzare il sistema togliendo l'automatico mettendolo nella frequenza che più di più è libera praticamente da voi nel vostro appartamento avrete meno meno interferenze un'altra cosa molto importante è sapere che la 2,4 gigahertz è influenzata molto anche dal bluetooth quindi da tutti gli apparecchi bluetooth che avete in casa in quanto gli apparecchi bluetooth funzionano a 2,4 gigahertz quindi spesso ci sono delle interferenze voi non riuscite a capire perché non riuscite a navigare nonostante avete segnale e spesso capita è successo anche a me specialmente quando non conoscevo questo tipo di risposte di sperimentare che magari avevo qualche apparecchio bluetooth attivo è bastato semplicemente disinserirlo quindi spegnerlo e tutto è tornato alla perfezione quindi attenzione se per esempio guardate una smart tv collegata alla 2,4 gigahertz guardate un film vi mettete delle cuffie bluetooth collegate alla tv o alla per esempio alla fire stick vi dicendo guardandovi un film con la cuffia bluetooth vi accorgerete che si interrompe in continuazione la riproduzione per esempio di un film o una serie tv poi basta spegnere le cuffie e tutto torna normale è un qualcosa che accade specialmente con i modem router di scarsa qualità comunque la frequenza 2,4 è la stessa del bluetooth quindi attenzione a questo quindi preferite quando possibile sempre la 5 gigahertz se avete ovviamente la copertura sempre costantemente preferite la 5 gigahertz perché prende molto 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 meno le interferenze io non ho mai avuto problemi di interferenze sufficienti a crearmi problemi di navigazione o riproduzione streaming in 5 gigahertz un'altra cosa è mettere il modem router lontano da apparecchiature elettroniche ho visto dei modem router messi anche dietro dei televisori ad esempio 56 54 pollici e vi dicendo nascosti dietro attenzione che questi fanno da barriera quindi associato questo alla posizione in alto del modem router è la combinazione praticamente perfetta e sarebbe ancora meglio come detto prima se messa al centro del dell'appartamento quindi in base a che tipo di modem router avete potete giostrare su tutto quello che io vi ho indicato e trovare la soluzione migliore preferite sempre lo ripeto la 5 gigahertz se avete un modem router che gestisce bene le frequenze le 2,4 5 gigahertz cioè decide lui gli apparecchi su quale frequenza farli collegare lasciate tutto così ad esempio chi ha i fixbox che sono ottimi per quanto riguarda questo tipo di gestione lasciate pure tutto in automatico senza dividere le frequenze invece se necessario come detto precedentemente dividete le frequenze cosa importante se vi è piaciuto questo video è quello di condividerlo se volete anche nei social farmi conoscere e vi ringrazio ovviamente per l'attenzione vi ricordo che sono raggiungibile sui miei social tramite instagram e l'indirizzo mail e il numero whatsapp che trovate giù in descrizione se volete passare ad o mobile sempre giù in descrizione c'è il mio referral link che vi dà la possibilità di ricevere 5 euro in omaggio nel momento in cui farete la prima ricarica quindi dopo il primo mese se volete sostenere il canale c'è anche il mio referral link che vi riporta ad amazon entrando tramite il mio referral link potrete fare i vostri acquisti senza spendere un solo centesimo in più ma supportare il canale io vi ringrazio per l'attenzione al prossimo video un abbraccio e un saluto da giuseppe